Anche la comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, Ingegner Rosa dell'Iseo, ha voluto presenziare alla cerimonia di ringraziamento a San Cono per la protezione ottenuta durante il terremoto del 1857. Da ieri sera la comunità di Teggiano è in festa per le celebrazioni in onore del Santo Patrono della Diocesi di Teggiano, due giorni in cui la comunità intera rende omaggio e ringrazia il Santo per la protezione ricevuta in occasione del devastante terremoto del 1857. Il 16 dicembre di quell'anno il Vallo di Diano fu dolorosamente colpito dal sisma che lasciò ovunque devastazione e morte. Tra i paesi più colpiti polla, mentre la comunità meno colpita e che non condò vittime fu proprio la città di Teggiano, che nella notte si riversò in Piazza Portello portando con sé la statua di San Cono e intorno ad essa i fedeli si riunirono in preghiera. La comunità, salva, da allora ogni 16 dicembre si riunisce per ringraziare il Santo Protettore e come ogni anno la comunità si riunisce per la benedizione del Falò di San Cono. Ieri sera Don Giuseppe Puppo, dopo la celebrazione della Santa Messa, seguito dalla comunità in processione, ha raggiunto il Falò acceso nel centro della piazza nei pressi dell'Obelisco di San Cono per la benedizione e per dare il via alla festa. A seguire, nel Chiostro di San Francesco, feste e buon cibo locale hanno allietato la serata ai tanti partecipanti. La festa è proseguita questa mattina con la processione dei Santi Protettori San Cono Incappucciato e San Laverio, primo patrono di Teggiano, tra le strade principali del centro storico fino a raggiungere l'Obelisco di San Cono, eretto in ringraziamento della salvezza ottenuta in occasione del terremoto dello 57. Ad attendere le due sacre effici accompagnate dal Vescovo della Diocesi Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e Don Giuseppe Puppo, i Vigili del Fuoco per la cerimonia dell'Omaggio Floreale a San Cono sull'Obelisco, cerimonia ideata e fortemente voluta da Cono di Sarli e che oggi è diventato un momento atteso e sentito di tutta la comunità religiosa. A salire sulle scale del mezzo dei Caschi Rossi per la deposizione della corona di fiori, il caporeparto e capo di staccamento di Sala Consina, Luigi Morello. A partecipare alla cerimonia, la comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, Ingegner Rosa Deliseo. Ringrazio sicuramente la comunità per questo invito, che per noi è un onore essere presenti qua in un momento in cui tutta la comunità festeggia il suo santo. ripeto, è un grande privilegio. Oggi ovviamente è anche la ricorrenza dell'attività di protezione che ha svolto San Cono durante il terremoto del 1857, per cui la nostra presenza forse è significativa anche per questo, perché noi di terremoti purtroppo in Italia ne facciamo tanti, quindi la vicinanza del santo alla comunità è sicuramente importantissima per loro, ma anche per aiutare noi a svolgere nel miglior dei modi il nostro lavoro di salvare le persone. I miei uomini dico di continuare a fare bene il loro lavoro, perché l'abbiamo scelto e per noi è importante portare la sicurezza e la salvaguardia alle persone. E questo è anche il motivo per cui sono qua, per lanciare questo messaggio. non c'è la sua faccia